Beati i miti, i puri di cuore. C'è dentro tutta la vita di Maria Bolognesi in queste beatitudini, alle quali richiamava ogni credente Gesù. Laica e mistica, la giovane Maria Bolognesi è una di quelle figure che ben rappresentano il cammino che ogni cristiano dovrebbe intraprendere. Cammino alla ricerca del disegno di Dio su ciascuno di noi. Certo, Signore nel Vangelo non fa altro che ripetere, siate santi e per cui a un certo momento è nella vita quotidiana nostra che ci santifichiamo, tramite che cosa? L'obbedienza ai comandamenti che il Signore ci ha proposto, anzi, e poi attraverso la priera e attraverso quell'invito amate Dio e amate i fratelli. Maria non è che si mettesse a fare fra virgolette prediche, ma attraverso le sue parole ognuno capiva che cosa esattamente Maria consigliava di fare. Lei non pontificava, lei dava dei consigli molto semplici, che è proprio la semplicità che è collegata estrettamente alla verità. nata nel 1934 a Bosaro, in provincia di Rovigo, Maria Bolognesi fin dall'inizio vive le difficoltà e la vita dura della sua terra, il Polesine. Non ancora diciottenne, Gesù le si rivela in modo straordinario. Il diciottesimo anno è l'anno dell'incontro con il Signore, è l'anno in cui lei esce dalla cosiddetta fra virgolette possessione diabolica che non tutti quanti riconoscono essere tale, poteva essere anche una forma di, come si dice, vessazione da parte delle forze del male o se vogliamo proprio anche dire da parte di Satana. Monsignor Banduin, suo ultimo direttore di spirito, proprio nel libretto Una vita per i poveri, sottolinea queste prove, dette della purificazione passiva, non sono rare nella vita delle anime che si stanno avvicinando a vivere il puro amore divino. Per un fratello cosa vuol dire avere una sorella tra poco beata? Beh, è una, come si dice, è una domanda molto, molto grande. Io per cavarmela dico sempre che i santi sono di tutti, non so, prego, dire, esprimere, so, in cuor mio però dico che il Signore si è degnato di venire in casa a Bolognese. Grazie.